Nessun nuovo caso di tubercolosi nella scuola elementare Giovanni XXIII di Trigiano, nel Barese. A dispetto delle notizie poco rassicuranti che si stanno diffondendo da alcuni giorni nella struttura scolastica, dalla ASL sono arrivate ancora smentite categoriche circostanziate. A farle, tranquillizzando il personale scolastico ma soprattutto i genitori, è il dirigente dell'azienda sanitaria locale Rocco Crudele che ci ha confermato telefonicamente che attualmente i casi tenuti sotto controllo sono quelli di cui si è già parlato nei giorni scorsi, ovvero quelli riferiti a due bambini, uno ricoverato perché è risultato positivo all'infezione della TBC ma non alla malattia conclamata e una bimba, anche lei ricoverata ma per accertamenti. Tra una decina di giorni dovrebbero essere entrambi dimessi. Dunque nessuna nuova insegnante coinvolta, eccetto il caso relativo alla maestra di sostegno colpita da TBC, tornata da pochi mesi fa da un viaggio in Marocco e che non è detto che abbia contratto la malattia durante il viaggio. Questa mattina sono stati eseguiti i test su 150 bambini, ovvero quelli delle classi entrate a contatto con la maestra e quindi ritenute più a rischio. Dopo domani sarà data lettura dei risultati a seguito dei quali sarà diffuso un comunicato all'interno della scuola. In ogni caso, ha garantito il dottor Crudele, sarà eseguito il test su tutti i bambini e il personale della scuola proprio per evitare spiacevoli allarmismi. Naturalmente per sicurezza il test sarà ripetuto tra due mesi, così come prevede il protocollo sanitario in casi del genere. Tuttavia all'interno della scuola non si ridimensiona il clima di paura e molti genitori hanno deciso di non mandare i bimbi a scuola. Una scelta non condivisa dalla dirigente scolastica, che ha annunciato, così come riferito da alcuni genitori, che se entro pochi giorni tutti gli alunni non riprenderanno le lezioni, scatteranno le prime denunce. Intanto, in queste ore, il sindaco di Trigiano, Vincenzo De Nicolò, attraverso un'ordinanza, ha disposto alla chiusura della scuola domani e dopodomani per permettere lavori di pulizia, bonifica e disinfezione della struttura, su disposizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL.